Come va? Come va? Come va? Mi senti? Mi senti? Uuuuh! Vedo solo la spelling Non si sente niente La tana del frerito Ciao preterigno Dovete dire a Rubino Scrivete in chat a Rubino di venire su Discord per favore Mi divertivo un po' di più Dovete scrivere a Rubino di venire su Discord Bomba bomba dai e dai Cioè fai i balletti Sì si suoni Sì in realtà io mi diverto Dovete scrivere a Rubino di venire su Discord Dai che legge la chat Un attimo Scusa è dopo una cosa Forse è una c***a però Dove un attimo capire Ciao giudone Perché c'è un problema con l'audio Vediamo Ok ci dovreste Perfetto Aspetta Ok l'audio va bene Sto prendendo Discord Eh? In che senso è Discord? Che vuol dire Discord? Stanno dando la soluzione per l'audio Ah sì perché sto mettendo l'audio più grande Sì sì si sente Sai cos'è Discord? Sai cos'è Discord? No Ah è un'applicazione dove passa il suono Perché vabbè noi diciamo Essendo streamer la usiamo per questo È un'applicazione dove passa il suono Perché noi essendo streamer Dobbiamo Circonnavigare tutto Però volendo Volendo si possono fare anche incontri Ma io non lo uso Io lo uso solo per l'audio Ok Ok Vabbè comunque stai tranquilla Bello l'orologio di Daniel Wellington Ti piace? Bello l'orologio di Daniel Wellington Ti piace? No Corsi in realtà Hai mai quel corso? Ah scusami Scusami veramente No ma c'è Vabbè ma c'è sta A me piacciono È una collaborazione? Ma è una collaborazione? Mi stavano con me? No con quell'altro Sì sì Stavamo io e te Scusati scusati Non c'è stata una collaborazione Scusa scusami scusi Scusati d'angono tanto No scusa scusa Era una battuta veramente marcia Una battuta veramente marcia Scusa 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 Ogni tanto metterci qualcosa di dire Dal nulla di ti Sembra verità E fai 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 Comunque Giada Come va la tua vita? Giada come va la tua vita? Io dico sembra verità Tutto bene Tutto bene Ho pubblicato un libro Io dico sempre la verità Come? Un libro? Ho pubblicato un libro? Sì Dico sì Come? Sono un po' un artista Se così si può dire Disegni? Verità Disegni? Io dico sempre la verità però No no Scrivo poi sì Disegno no Il tuo editore? Il tuo editore? In realtà Ha pubblicato su Amazon Da indipendente Un saluto Amazon Un saluto ad Amazon Vabbè Scusa Scusa Sono salutato Amazon Ma ci abbiamo dei collaboratori Che ci guardano molto spesso Una roba così nostra Scusa Sono salutato Amazon Ma ci sono dei collaboratori Che ci guardano molto spesso E li salviamo Un saluto Amazon Nel senso Quali sono le Oltre alle poesie Quali sono le tue passioni? Ah ok rispondi Io Vai di quello che vuoi Io Niente Io faccio lo youtuber Lo streamer E poi nel tempo libero Raccolgo i pomodori Ok ridi Ok ridi Fai per serio Prenditi mano di sta cosa Ok ridi Secondo me è un bel lavoro Cioè io ci metto Spiegare perché tu sei Sei in un posto In estrema periferia Quindi Necessariamente E vado nel tempo libero Per il contadino Quindi Ah No vabbè Perché io sono Di estrema periferia E quindi ogni tanto Vado in campagna E hai visto Prendi il pomodoro Lo studi Se è buono Lo porti Che buoni Sei di Roma tu O di Roma Sì Sono proprio di Roma Non sei di Roma Ah sei di Roma Però è estrema periferia Ma proprio estrema E dei amici di Montelotondo Verità Montelotondo Però io Io so di estrema proprio Periferia Di solo verità E dico solo la verità Non lo so È un mio punto forte Ok Hai preso su Shane il vestito? Di cosa ti occupi su YouTube? Principalmente Che video fai? Rispondi Sì Eh Su YouTube Blasto le persone Se fanno qualcosa di male E io dico la mia Sempre perché Che tu dici la verità E stai sincero Brava Perché ti carina Hai capito che personaggio sono Hai capito Hai capito che personaggio sono Perfetto Perfetto Adesso scoreggia Me l'hai ripetuto Che dice la verità Ma come? Sto scherzando Niente parla Parla che se no c'è il Non si sente più Non ti sentiamo Non si sente Ok Non attivare l'audio Ci senti Fai sicuramente la testa Se mi senti Ok Ok Ora comincia a parlare Comincia a urlare Proprio sul microfono Ma lei non ti sente Lei non No Ma Questo microfono Non funziona Mentre sei mutato Muttati Muttati Mamma mia Ha dato un colpo Che sembrava Quello di Fantozzi Urla sul microfono Deve essere mutato Non ti si sente così Urla sul microfono Mi senti Mi senti Mi rimane Mi ribaltare Mi rimane Dovevo essere in c***o Mamma mia Sembra Giada Fai Giada Con l'abbiale Deve capire Che dici Giada No Non ti sento Urla Giada Con l'abbiale Giada No No Vedo solo Che sta dicendo Giada Come va Come va Come va Mi senti Mi senti Uuu Vedo solo lo spelling Non ti senti niente Ok Pronto Sì ora ti sento Oh È perché È un casino Hanno appena scritto Che ce lo vuoi con me Eh Cosa Che ho fatto Dicono che ce lo vuoi con me Eh Vuol dire ce lo vuoi Sai come vuol dire Ce lo vuol dire Ce l'ha con qualcuno No No A Napoli si dice Ce lo vuoi con te Ce lo vuole con te Ah ce l'ho con te Praticamente Vuole uscire con te È interessato Nei commenti È un sottoggiato Sorridi E basta No 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 Boh No Tu si Non so Perché tu si Non lo so No no Stavo scherzando Ah beh Meno male Tu sei fidanzata? Tu sei fidanzata? No se mi dice così È un'offesa Come sei offesa? È un'offesa Eh ciao Meno male Come l'offeso? No Ah perché ho detto Meno male No 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 Cambia argomento Ti piace il padrino? Anche il mio ragazzo Stia vedendo questa live Ah Pure la mia ragazza Sta in chat Un saluto al cecchino Ciao Salutiamo tutti i fidanzati Ah saluto anch'io Il fidanzato di Giada Tutto a posto Dai un piccolo troll Comunque Rubino Ti piace il padrino? Ti piace il padrino? In che senso? Scusa C'hai la C'hai il poster del padrino Eh c'è vedo il Il poster del padrino Può essere il padrino Indietro Sua destra Il poster del padrino Dannazione Il cinema è importante Ah Il poster del padrino Dannazione Sta là sulla destra Sì Dove vedi? Il cinema È importante Ecco Sì Sta lì Il poster Sì In realtà sono in camera Chi è che sta in camera? Sono in camera O chi sta in camera? Lui ama film Lui studia film A me film Ah Vabbè un saluto al tuo cugino Come si chiama? Rientriamoci Andrea Andrea Ciao Marco Andrea Andrea Ciao Andrea Avevo capito Marco Oh Giada Ho dato una saracca al microfono L'ho distrutto Giada Output Giada mi senti? Guarda Mesa moscia Porca Giada mi senti? Guarda Guarda come Mesa Giada mi senti? Giada mi senti? Scusa